Se mi volto indietro, vedo solo pagine di libri, una vita tutta di carta. Era un volto che non avevo mai visto prima. Si tratta dell'opera di un artista geniale. Ci sono rivendicazioni? Non siate stupiti se vi cacceranno da questi luoghi. Molti si illudono con le loro imprese di poter fare cose meritevoli, senza rispetto di ciò che regola la vita. Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico.